Ciao ragazzi benvenuti nel mio canale. Vi abbiamo raccontato del periodo di Anne de Hercel al festival del cinema francese, ma Kerem. Abbiamo pensato che Bursin avrebbe reagito a qualcosa che aveva detto su Cannes. Non l'avevamo nemmeno superato. La tensione tra Kerem Bursin e Anne de Hercel era evidente da quando abbiamo appreso che ha cancellato insieme tutte le sue foto su Instagram, ma è nata una tensione inaspettata con Cannes. Coincidenza. Tutto è successo ieri. Una semplice foto, un semplice commento ha messo gli occhi di tutti sull'eroe maschio di Love is in the Air, e poi sulla sua ex. Quando abbiamo finito questo articolo, il commento di Kerem Bursin sul festival di Cannes era rimasto sospeso per 15 ore, mentre quello di Anne era rimasto sospeso solo per 4 ore. Considerando che anche Anne era in onda a quel festival, è difficile pensare che non abbia risposto subito. Anche per la rivalità e la gelosia che ora la lega al suo ex fidanzato. Commento rivolto a Merve Disdar. L'attrice turca, che è nel cast di Doctor Ali, ha ricevuto il premio come migliore attrice al festival di Cannes per il suo film Kuru Otlar Ostune, spagnolo, Kuru Otlar Ostune. Diretto da Nuri Bilge Ceylan. Kerem si è congratulato con lui in questo modo. Merve Disdar. Sì bì. Congratulazioni. E poche ore dopo, Anne ha fatto lo stesso e si è congratulato con lei con qualche piccolo battito di mani. La nostra domanda è. L'hai fatto perché sei orgoglioso che un tuo cittadino abbia vinto il premio o perché hai fatto la storia a Cannes e ti sei sentito in dovere di farlo perché Anne non l'ha ancora scritto? Non possiamo rispondere, ma riteniamo dubbio che ciò richiederà troppo tempo. Chi è Merve Disdar? Nato nel 1986 a Izmir, Merve sta per compiere 37 anni. La sua carriera è molto ampia sia nel cinema che in televisione. Oltre al dottorale in Innocence, potresti vederlo anche tu. Tuttavia, con questo premio, nell'intera storia del festival, è diventata la prima attrice turca a vincere a Cannes. Grazie. 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 Grazie.